Il software libero torna protagonista anche a Grosseto con l'edizione 2013 del Linux Day. Sabato prossimo nelle aule del Polo Universitario si terranno i vari corsi, seminari e workshop. Il servizio di Carlo Vellutini. Il software libero torna protagonista a Grosseto con il Linux Day in programma sabato prossimo nelle aule del Polo Universitario di Via Ginori. Un appuntamento che si svolge su tutto il territorio nazionale che in Maremma ha organizzato in sinergia tra le associazioni Guru at Work, Innovazione per l'Italia, Dubidu e con la CNA. Il tema dell'innovazione sarà quello principale dell'edizione 2013 del Linux Day. Cercheremo di affrontare il tema dell'innovazione nella sua complessità parlando sia di quello che riguarda la pubblica amministrazione, sia riguardo le smart cities di cui tanto si parla ma poco si sa e cercando anche di capire come si muovono le persone oltre che le tematiche. Cercando cioè di andare ad analizzare attraverso i volti dell'innovazione che è il titolo del convegno, tutte le opportunità che ci sono. Non solo per quanto riguarda le tecnologie che è quello che tutti un po' pensano quando si parla di innovazione, ma anche e soprattutto quello che l'innovazione significa in termini di opportunità di sviluppo appunto per le città, per le amministrazioni, per la pubblica amministrazione ma anche per i cittadini. Il software libero sta prendendo sempre più campo soprattutto nelle pubbliche amministrazioni. Qui nella nostra provincia hanno utilizzato molte amministrazioni fra cui il comune di Grosseto, insomma è uno delle prime amministrazioni che ha iniziato ad usarlo ma anche molte altre lo stanno usando. Nel privato soprattutto vari software come per esempio quelli di Office Automation sono ormai entrati nella vita comune dei dipendenti, degli utilizzatori all'interno delle aziende. Ecco magari altri tipi di software possono essere, ecco diciamo all'inizio quindi bisogna distinguere magari dall'Office Automation al software per la grafica a quello per lo sviluppo di siti web sono sicuramente più diffusi. Il software libero sta trovando consensi anche tra gli imprenditori tanto più in un periodo di crisi economica. La promozione del software libero è una promozione diciamo della cultura digitale e è soprattutto un modo per portare l'informatica all'interno dell'azienda a costi bassi. Il Linux Day si svolgerà per tutta la giornata di sabato con vari appuntamenti tra seminari, corsi e workshop su più aule e coinvolgerà anche gli studenti delle scuole medie grossetane.